Li attendevamo praticamente da un anno, sono arrivati i primi verdetti, la Juventus è campione d'Italia, ne parleremo domani qui a Sportivandamente Speciale Calcio con Nicolo Foto e Antonio Luzzito. E chissà, certo lo sappiamo, abbiamo un grandissimo contributo per parlare proprio della cavalcata triunfare della Juventus che sarà Enrico Zambuno, telefonista di Juventus Channel. Assolutamente, sarà con noi Enrico per un contributo audio di grandissimo spessore, lui che ha seguito tutte le partite della formazione bianconera in questa stagione, ma attenzione perché i verdetti non sono finiti, anche per quanto riguarda il nostro territorio, il grande verdetto atteso da una stagione intera è arrivato, i Nero Stellati, il Casale Calcio, ritorna nel percorso scenico della quarta serie nazionale, la Serie D. E chissà che anche lì non potremo avere qualche contributo direttamente in studio, vedremo, vedremo. Vedremo, vedremo, ne avremo di cui parlare. Assolutamente, c'è più Slinger, giornata perché c'è ancora la lotta a salvezza, tanti argomenti. Come sempre, la Champions League è naturalmente domani mattina, ore 11, solo su Radio Vanda, a Tore Zito, è il più fluo bello d'Italia, Nicola Foto. Nicola Foto, ciao ragazzi, domani.